ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi prepareremo insieme un primo piatto che vi conquisterà con il suo sapore intenso e delicato e per la realizzazione di questo piatto utilizzerò i gnocchi e i ripieni di gorgonzola d'occo dell'azienda mamma emma per esaltare ancora di più il sapore di questi gnocchi ho deciso di condirli con un sugo di sole verdure e cioè peperoni rossi peperoni gialli e porro vi lascio di seguito la lista degli ingredienti e il procedimento gli ingredienti che occorrono sono una confezione di gnocchi ripieni con gorgonzola d'occo dell'azienda mamma emma peperone rosso peperone giallo porro pepe sale olio extravergine di oliva per prima cosa dopo averla lavata accuratamente tagliare a fettine la verdura dopodiché versare l'olio extravergine di oliva in una padella bella capiente aggiungere i peperoni e il porro e lasciar cuocere per qualche minuto aggiungere il sale il pepe a questo punto aggiungere 100 ml di acqua e versare i gnocchi nella padella e lasciar cuocere per circa 4 minuti a metà cottura aggiungere una spolverata di formaggio parmigiano grattugiato e a questo punto il nostro gustoso primo piatto utilizzando i gnocchi ripieni di gorgonzola dell'azienda gusto emma sono pronti per essere impiattati infine potete aggiungere un'ulteriore spolverata di formaggio parmigiano grattugiato e non resta che gustarli spolverata di formaggio parma spolverata di formaggio parma